Tra pochi giorni uscirà il prossimo film d'animazione Netflix, Leo, nonché terza pellicola animata di quest'anno da parte di questa casa cinematografica. Adesso però facciamo un piccolo passo indietro e parliamo di un film Netflix uscito mesi fa che sembra essere uno dei lungometraggi animati dell'anno, ovvero Nimona. Prima di iniziare iscrivetevi, attivate le notifiche e mettete un bel mi piace, seguitemi anche su Instagram dove pubblico molte cose interessanti, nome del profilo al lab-autoimitedfilms. Quando ti avremo scagionato sarò la tua spolla ufficiale dei secoli dei secoli, non si fa marceglione. E puoi essere tu? Non ti seguo. Originariamente una produzione della Blue Sky, il film è stato cancellato all'inizio del 2022 in seguito alla chiusura degli studi avvenuta due anni fa. Al momento della sua cancellazione, secondo quanto riferito, il film era completo al 70% in fase di layout. Netflix ha deciso di continuare a lavorare al prodotto completando tutte le scene. Quando viene riprodotta la pubblicità dei cereali Dragon Crisp, possiamo notare che il tema musicale utilizzato è lo stesso di The Banana Splits Adventure Hour. Si tratta di una trasmissione del sabato mattina sviluppata da Anna Barbera negli anni 60 per la NBC, dove ci sono mascotte discretamente inquietanti che ballano o cantano, non lo so. Nella scena ambientata nella stazione della metropolitana, Nimona assume la forma di un topo e trascina una fetta di pizza. Questo è un chiaro riferimento al meme del 2015 Pizza Rat, che ha avuto origine quando un roditore è stato ripreso dalla telecamera mentre portava con sé una fetta di pizza giù per le scale di una stazione. Stessa scena appare anche in Soul. Diciamo che la trama del film ricorda molto quella di Shrek. Molti, oltretutto, ritengono questa recente pellicola un plagio del film del 2001. Anche se, a parer mio, non è così, dato che il lungometraggio del 2023 si ispira all'omonima graphic novel di otto anni fa. A inizio film possiamo vedere Ballister dietro le sbarre e Nimona che appare all'improvviso. E ovviamente il pubblico si chiede come abbia fatto a entrare. Pochi istanti prima della sua apparizione in primo piano possiamo notare Nimona, versione ratto, entrare furtivamente nella cella. Probabilmente, e sottolineo probabilmente, Nimona si ispira ad Atje, tradotto vuol dire Giovane Toro. Si tratta di un mutaforma che vive isolato dal mondo, spesso nelle caverne. Questo spiritello della mitologia basca è famoso per il fatto che di notte esce dalle cavità dove è nascosto per andare a uccidere gente malvagia. In molti si sono chiesti quale fosse l'età di Nimona e non quella vera, dato che viene specificato che lei ha più di mille anni, ma quella del personaggio nel quale si trasforma per la maggior parte del film, ovvero una diciottenne stereotipata degli anni venti. Inizialmente l'ultimissima scena del film doveva essere questa. Scrivetemi nei commenti una vostra opinione su questo film, ci vediamo presto con un nuovo video.